Un pensiero su Gino Cosano. Per me è la perdita di un amico carissimo e per il territorio una perdita ancora più grave perché la sua passione politica era una passione sincera, spontanea, assolutamente disinteressata. Lo rendeva perciò persona amata da tutti. Nessuno ha mai potuto contestare a Gino la volontà di un perseguimento di un fine personale. Ha amato il suo territorio con assoluta dedizione e di questo gli dobbiamo essere grati e ce lo dobbiamo ricordare.